Altrimenti passi e vai, quindi questo succede con te, sei straordinato, sei molto te stessa, è una donna semplice, stavo dicendo delle cose serie, non la vedete che è alta, lei è bassa, capito? Che devo fare? È alta dentro, vent'anni che lo sopporto, vent'anni che lo sopporto, non ha capacità di sintesi, finita? Ma io avevo finito, lei mi stava chiedendo una cosa. Mi so se vuoi ripetere l'esperienza televisiva con Laura Pausini. Ma vuoi ripetere l'esperienza televisiva con Laura Pausini? Ma per ora no, Laura, gli stati, magari se mi invita allo stadio vado da lei, perché davanti a tutto uno stadio urlante non ci sono mai stata. Tanti anni che l'ho invitata allo stadio, io a vedere la Roma non ho mai voluto venire. Certo, perché vado qui a vedere la Roma. C'è un'arrivile del padre, poi, il poverino, un grandissimo niposo da Roma che saluto vivamente. Ma a tutti, tutto questo. Ma che ne so? Grazie a tutti.